buondì allora io mi stavo preparando sempre a guardare l'orologio sempre a guardare notifiche mi stavo preparando la mia insalata oggi mangerò delle insalate della carne a pranzo è già molto tardi ma mi è arrivato proprio adesso infatti lo apro con voi questo qui ed è un pacchettone di un ordine che ho fatto alla fattoria della mandorla forse di questo brand ho preso già qualcosa però non ricordo se era una crema oppure delle mandorle comunque non me lo ricordo adesso andiamo ad aprire perché ho preso delle mandorle che mi erano finite e poi anche delle creme di mandorle andiamo a vedere che ci sta qui dentro allora ho perso anche il taglierino tra i vari taglierini che ho persi per casa non riesco più a trovare quello che metto di solito all'ingresso perché ogni volta all'ingresso riguarda davide tassi comunque ho preso mandorla pelata da agricoltura biologica calata al 100 per cento queste qui un bel chilo si dovrà di mangiare perché io stravedo per le mandorle mi piacciono più le nocciole però le mandorle non sono da meno per le preparazioni varie anche salate fatemi sapere se vi piacciono più mandorle o più nocciole io le nocciole tostate le adoro soprattutto con il cioccolato poi un altro chilo di mandorla semplicemente mandorle semplicemente sgusciate queste qui sempre bio e poi ho voluto provare due creme confezionate qui dentro una è al 100 per cento mandorla pelata non so se è biologica anche questo si penso anche questa da 200 grammi c'è uno sconto sul sito quindi ho approfittato e un'altra invece è come questa mandorla integrale che non ho capito bene che cosa vuol dire cioè se forse con il guscio cioè scusatemi con la pellicina quindi semplicemente sgusciate si sono semplicemente sgusciate anche perché la pellicina esterna della mandorla non fa male anzi anzi come quella degli arachidi che di solito levo sempre prima di mangiare gli arachidi lo stato invece andrebbe mangiata perché piena di antiossidanti comunque mi fermerò anche per la pellicina della mandorla e vi farò sapere adesso metto a posto e pranzo e Grazie a tutti. 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 anche a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. che a dirsi è molto semplice da utilizzare esempio se volete cuocere un pollo intero che deve essere ben cotto e quindi il grado di cottura che volete impostare andiamo direttamente adesso a pork ovviamente la sondina va lavata va sciacquata io già l'ho sciacquata la vado a risciacquare un secondo perché l'ho toccata con le mani e poi torno qui per la cottura allora ho inserito i guanti vado ad aprire il cestello per questa cottura andrò a levare la griglia di sotto perché non mi serve da premere il tasto sonda quindi inserisco la sonda metto la cottura con la sonda quella già preimpostata e vado a pork perché dobbiamo andare a cuocere la nostra arista vado a mettere qui c'è impostata cottura media ma io voglio la cottura più alta possibile quindi deve essere ben cotta proprio ben cotta come piace a me vado ad inserire praticamente questa qui dobbiamo andarla ad inserire all'interno della carne io ho massaggiato la carne con un mix di spezie ma voi potete utilizzare anche un mix di spezie già pronti quelli con il sale tipo ariosto o aroma per il pesce io ho utilizzato delle spezie secche con del semplice sale un po di olio giusto un goccino di olio per andare a massaggiare bene la carne andiamo inserire la sondina mi raccomando la sondina deve essere inserita non per così come c'è scritto nelle istruzioni ma sempre da dietro in pratica dovete andare ad inchiappettare proprio il pezzo di carne quindi da dietro messo così e andate ad aprire il vostro cestello mettete la carne all'interno io ci andrò a mettere anche le varie verdure e andate a chiudere ovviamente una parte di questo filo deve uscire fuori infatti qui c'è una piccola scandalatura che vi fa vedere dove far fuoriuscire appunto il filo inserito andate a inserire tutto mi levo i guanti per comodità posto la carne taglio giusto due mele biologiche che metterò dentro infatti adesso ho messo carote e cipolle tagliate grossolanamente andrò ad aggiungere anche le mele tutta la buccia e tre spicchi d'aglio infatti qui dentro sarà così metto appunto carne porca quindi ricapitolando ho scelto carne di maiale ben cotta vado a mettere il tasto play qui mi dice che il target interno ovvero la temperatura interna dovrebbe essere di 75 gradi adesso ci sono all'interno della carne 10 gradi quando raggiungerà i 75 gradi vuol dire che sarà cotta allora cottura della carne ultimata ecco qui il pezzo di carne levate la sondina ovviamente va lavata solo questa parte qui perché questa è la parte elettrica come vi dicevo io ho scelto un grado di cottura più cotto l'onor del vero durante la cottura mi è uscito la scritta plug in due ovvero che non era stata inserita la sonda ho rimesso di nuovo la cottura quindi se avete problematiche basta spegnere riaccendere e mettere le varie impostazioni e come vi dicevo a me piace molto molto cotta quindi ho messo grado di cottura cotto 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 adesso andiamo a tagliare in realtà questa qui la andrò a congelare fettata con la fettatrice perché la faccio a fette molto molto sottili le verdure ovviamente all'interno si sono andate un po bruciacchiare perché sono differenti rispetto alla cottura della carne ma vi voglio far vedere proprio in reale la cottura interna perfetta perfetta come piace a me guardate ecco non c'è neppure un po di rosa all'interno la cottura è davvero perfetta eccezionale questa friggitrice per quanto riguarda la cottura delle carni che siano agnello pesce pollo quello che volete è davvero super top non andate mai a sbagliare se volete un grado di cottura eccezionale unica cosa che non mi è piaciuta che durante la cottura non si possono andare ad aggiungere o diminuire minuti durante la cottura ma bisogna sempre spegnere e ricominciare quindi questa è una piccola pecca che non mi è piaciuta per il resto soprattutto per la cottura delle carni ottima ma anche per gli altri cibi ovviamente però rispetto a tutte le altre che ho provato fino adesso per la cottura della carne è straordinaria ed è la migliore vi lascio il link sotto con un poterla acquistare a prezzo scontato ora la vado a pulire levo tutte quante le verdure e la metto dritta dritta in lavastoviglie in genere durante il meal prep faccio due ariste di maiale le vado a tagliare con la fettatrice poi vado a porzionarle come vi dicevo e vado a congelarle di solito le lascio lisce ovvero così semplicemente fettate e poi di volta in volta quando le vado a scongelare faccio ad esempio non so una cremina di verdure al momento in base a quello che voglio la vado a condire magari quelle purè di patate delle verdure del sugo insomma di volta in volta cambio il condimento allora io adesso esco perché intanto lascio asciugare la lampada così dopo ve la faccio vedere totalmente asciutta perché se no faccio guai sicuro e voglio andare a prendere alcune teglie per la frigitrice ad aria proprio questa qui da casa nuova avevo visto qualcosa quindi se non mi sbaglio le ho viste proprio lì delle teglie piccole per la frigitrice ad aria adesso vado e ci vediamo dopo rieccoci qua stavo andando a trovare a cercare un attimino e lo scontrino ok allora no così vi dico anche i prezzi è il momento dell'anno in cui non si sa come vestirsi perché piove poi fa freddo insomma non si capisce niente spesa totale di oggi perché avevo un buono altrimenti casa nuova non mi vedeva sicuro 24 e 90 ho preso due di queste teglie perché hanno un rivestimento antiaderente antigraffio di lunga durata vedremo un po da casa nuova le trovate proprio per frigitrice ad aria cioè anche per frigitrice ad aria si sa proprio scritto per frigitrice ad aria fino a con capacità di 8 litri ma in realtà entrano anche nella mia ho visto adesso riescono ad entrarci e sono 20 per 20 altezza 5 centimetri eccole qua 4 90 luna c'erano anche tonde però preferisco questo qui perché magari se faccio una parmigianina due parmigianine perché una volta che è già calda la frigitrice ad aria andate a levare una teglia e ne mettete subito in un'altra e quindi risparmiate anche sulla corrente perché bisogna sempre risparmiare poi ho preso finalmente in casa life arriva una fila coltelli volevo prendere quello del di chea ma alla fine ho preso questo qua perché penso sia un po meglio questo pagato sempre con il buono 14 e 90 vedremo com'è perché devo andare ad affilare tutti i coltelli perché dobbiamo tagliare le teste di cavolo io ovviamente tira un vento fortissimo io già ho preso il caffettuccio vado a lavare la tazzina e vi faccio vedere subito la lampada così chiudiamo questo video allora l'ho posizionato in quest'angolo e guardate com'è bella mi piace tantissimo questa è regolabile si può regolare la luce insomma le varie pallottole che si possono andare a regolare è venuta benissimo io volevo proprio una tonalità di nero matto satinato quindi non qualcosa di lucido si va ad accendere aspettate che accendo guardate che bella è proprio bella 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 e ci sta anche bene ci sta meglio con questo colore perché qui da questo lato io ho un quadro che vedrete nell'home tour che ha molto molto nero quindi è il punto focale ed ecco perché ho fatto questa lampada nera bella 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 mi piace fa questa vernice è proprio molto 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 bella proprio anche al attacco bella mi piace perché tutto va sempre abbinato per evitare il disordine visivo ci vediamo al prossimo video vi è piaciuto stare con me oggi fatemelo sapere con un commento e con il vostro like ciao alla prossima ovviamente se non siete iscritti fate male fate malissimo dovete iscrivervi per forza ciao 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 ciao